tra i giornali satirici quelli editi a genova la strega la maga ebbero una storia assai travagliata da cambolesca che come un film rouge lega entrambe le testate il primo ad uscire infatti nell'agosto del 1849 fu il giornale intitolato la strega che poco meno di due anni dopo nel luglio del 51 venne posto sotto sequestro con la conseguente sospensione delle uscite tuttavia il giornale satirico di lì a poco rinacque con un altro nome la maga che a sua volta sopravvisse soltanto fino all'inizio del 55 quando venne nuovamente sospeso per riapparire poco dopo con il titolo di la vespa che riuscì a resistere solo fino al 1856 quando l'ultimo sequestro ne determinò la definitiva chiusura senza più resurrezioni considerato il più scatenato giornale satirico del risorgimento per il suo acceso anticlericalismo e filo repubblicanesimo la rivista la strega nacque ufficialmente a genova l'8 agosto del 49 stampata nella tipografia d'agnino in piazza cattaneo di matrice prettamente mazzignana fondata da nicolò d'agnino la pubblicazione bisettimanale era contraddistinta da una grande illustrazione a piena pagina autore dei disegni era gabriello castagnola noto per la sua matita decisamente irriverente antisabauda antipapalina ma anche antigebortiana e altrettanto stila cavur e rattazzi anche loro è tra i suoi obiettivi di caricaturista nel primo numero la strega si presentava ai lettori con le seguenti parole non vi impaurite o lettori se vi si presenta una strega con la scopa tra le gambe e in atto di voler correre a spaventare più di un fanciullo ed una giovinetta è vero che sono una strega di quelle che un secolo fa si radunavano al sabato danzavano e facevano tanti vaghi scherzi per punire coloro che non credevano alla loro potenza ma a lungo sonno che ho dormito mi ha fatto perdere tanta di quella irascibilità che allora possedeva mi restano ancora però gli stessi poteri bastevoli a punire chi si attentasse di fare oltraggio a me e ai miei amici non credete alle chiacchiere di coloro che asseriscono non esistere più streghe perché o non sanno non vogliono dire la verità ma io con fatti con prove irrefregabili e sicure vi proverà che esistiamo tuttavia vive e sane osservate quanto è accaduto in italia non solo ma in europa in questi ultimi due anni e ditemi che non è accaduto a causa di sortileggi e stregonerie continuava poi dicendo che il suo compito sarà quello di svelare cose arcane ignote misteri e altri curiosissimi segreti cercando di far ridere il lettore e continuava siccome non c'è cosa più grata che ridere dei propri nemici e il destino sembra congiurare contro di noi io vi inviterò a ridervi anche del destino chiusa la strega il testimone fu accolto dalla nuova rivista intitolata la maga la cui prima uscita venne a ruota il 24 luglio del 1851 il passaggio di testimone fu sottolineato dall'esplicita dichiarazione che il nuovo giornale voleva essere l'erede universale di quello precedente a cui venivano lasciati in eredità energia principi indipendenza e simpatia del popolo anche la nuova testata incontrò mille difficoltà che condussero a un ulteriore cambio di nome dalla maga in la vespa prima della definitiva chiusura nel 1856 i tre giornali ebbero sempre lo stesso redattore nonché proprietario da prima anonimo e poi esplicito l'avvocato genovese luigi priaro affiancato all'inizio dall'ex chierico giacomo borgonuovo nella loro breve e travagliatissima esistenza questi definiti giornali satirici a figure stampati a genova fu un oggetto in totale di ben 24 processi in poco più di sei anni di vita per complessivi 15 condanne e nove soluzioni senza contare i numerosi sequestri gli arresti le querele tra cui una da parte di camillo benso di cavur e una scomunica di papa pio nono nel corso della loro breve esistenza fessero oggetto di feroce satira soprattutto la marina sarda e i suoi alti ufficiali e con esso il governo reò quest'ultimo anch'esso almeno nell'opinione comune dei genovesi di trascurare la marina militare e in particolare di anteporre ingiustamente negli alti incarichi gli ufficiali piemontesi a quelli genovesi tra gli obiettivi preferiti di questi attacchi ci fu carlo pelion di persano vercellese preso di mira dai giornali genovesi in quanto protagonista di diverse frequenti disavventure quale comandante in particolare nel bienio 1851 e 53 ma poi anche in seguito in occasione della disfatta navale di lissa del 1866 quest'ultima avvenuta però dopo la definitiva chiusura dei giornali satirici oggetto di questa conversazione altrimenti chissà quante ne avrebbero scritte e disegnate divenuto celebre già nel 1849 per investimenti nel rio della plata nel mar adriatico al comando del brigantino leridano il persano fu protagonista di un'altra celeberrima disavventura marinaresca avvenuta precisamente il 9 febbraio del 1851 quando la fregata a vapore in partenza da genova alla volta di londra in occasione dell'esposizione universale sotto il suo comando rimase incagliata nel porto genovese precisamente presso la darsena santa limbania dove rimase per più di 12 ore arenata tra gli scogli all'episodio il periodico umoristico democratico dedicò ben cinque numeri tra le più feroci rappresentazioni le vignette nella prima vennero raffigurati un cristoforo colombo in preda alla disperazione e un'andrea doria al quale letteralmente cascavano i calzoni e in calcio il commento povera genova un giorno regina del mare a pochi giorni di distanza ne fu pubblicata un'altra nella quale si dava l'annuncio di una scoperta della gazzetta ufficiale piemontese sul fatto del governolo raffigurando da una parte la marea che abbassandosi lasciava letteralmente a secco le imbarcazioni sotto la lanterna dall'altra la marea che salendo invadeva la piazza antistante il teatro carlo felice due anni più tardi sulla rivista la maga fu pubblicato un dialogo tra un marinaio genovese un impiegato piemontese a proposito della partenza del governolo avvenuta sempre dal porto di genova il 26 luglio del 1853 in un modo del tutto anomalo ovvero di poppa anziché di prua seguito da una divertente vignetta dove alla domanda rivoltagli dal piemontese ma come lei questa fe che la fa particola pupa innanzi il genovese rispose sicuro è un nuovo modo di navigare inventato dalla marina militare ma tanti sarebbero gli episodi da raccontare che videro il persano protagonista tra i più noti quello avvenuto nelle secche di palau in sardegna seguito da quelli avvenuti nell'agosto del 53 alle bocche di bonifacio tra sardegna e corsica e tra di essi il noto scontro cosiddetto dei berrettini che suscitò notevole scalpore anche per la presenza a bordo di sua maestà vittorio emanuele secondo nei numeri successivi il giornale satirico continua a infierire sul persano e sulla marina sarda protagonista di ben 16 investimenti in due anni e rea fatto davvero sorprendente di non annoverare nessun genovese nel suo stato maggiore dove figuravano invece ben sette piemontesi accanto a tre soli sardi